Emergenza Legionella ad Ortona, nelle ultime ore si sono verificati diversi casi. Dottoressa Mammarella, qual è al momento la situazione? Al momento la situazione che abbiamo avuto, abbiamo otto casi di Legionella sul comune di Ortona, ma non all'interno del centro storico, ma in periferia, in tre contrade diverse. Per cui abbiamo già attivato l'Arta, abbiamo fatto le indagini epidemiologiche dei vari casi, ci abbiamo anche interessato l'Istituto Superiore di Sanità, l'Arta nei prossimi giorni andranno a fare i campionamenti nelle varie abitazioni, nelle varie strutture che gli indicheremo e dopodiché aspettiamo un po' gli essiti. Quali le possibili cause? Allora, al momento non ci risultano fattori comuni all'interno di questi casi. Abbiamo solamente verificato, giustamente ci è stato detto dal sindaco del comune di Ortona, che ci sono state, presumiamo, siccome ci sono state delle interruzioni della rete idrica potabile per lavori di sistemazione da parte dell'ente gestore e alcune di queste abitazioni avevano degli autoclavi per la distribuzione della rete idrica, quindi si presume, presumiamo per il momento, non c'è nulla di certo. Sette persone ricoverate in ospedale, in diversi ospedali, otto persone ricoverate, c'è stato anche un decesso? Sì, c'è stato un decesso, abbiamo due persone ricoverate in rianimazione, le altre persone sono ricoverate in degenza normale.